Paolo Sousa farà buon viso a cattivo gioco perché per la Salonitana sono in programma tre gare importantissime in pochi giorni. Dalla trasferta di Napoli a quella di Empoli, passando per la gara interna con la Fiorentina, il trainer portoghese vuole trarre il massimo possibile in termini di punti, ma dovrà fare i conti anche con i cinque diffidati e le necessità di gestire le forze. In questo senso i recuperi di Mazzocchi e Maggiore sono quanto mai propizi. Si spera che anche Fazio e Cernigoi possano tornare arruolabili durante questo Tour de Force. Più siamo, meglio stiamo. Questo è il pensiero di Sousa che ha perso per tutto il resto della stagione Valencia. Quando i giorni di allenamento alla Rechi dinanzi a sé, il trainer portoghese potrà lavorare su un campo che per dimensioni ricorda quello del Napoli. La squadra è concentrata, anche se nell'area si coglie fastidio di irritazione per la questione relativa al giorno di disputa del derby. Troppe le problematiche di ordine pubblico che l'eventuale festa a scudetto partenopeo comporterebbe non sono legate alle semplici manifestazioni di giubilo sopra le righe, per evitare che su questa partita siano già caricate troppe aspettative, pressioni e tensioni. La Sanitana è stata aspettatrice interessata della vicenda, ma con ridotti margini di manovra. Il club Grinata si sarebbe volentieri attenuto a rispettare il calendario stabilito da tempo, ma con stile e correttezza ha evitato di entrare nella polemica. Sul fronte formazione dunque Sousa valuterà se schierare Ghiomber, diffidato al centro della difesa. In alternativa potrebbe giocare Tosta Econ con un nazionale d'amico di Osimen. I due sono compagni in nazionale, di sicuro il difensore Renata conosce ogni segreto dell'attaccante del Napoli. Daniluk si candida per ritrovare posto sul lato destro della difesa, ma Zocchi potrebbe giocare ad esterno, ma non per forza a destra. Braderic è diffidato e chissà che l'ex Venezia non venga spostato proprio sulla sinistra. In mediana a Coulibaly e il diffidato Vilena dovrebbero giocare dal primo minuto. In attacco Candreva e Dia sembrano sicuri di una maglia. La posizione di Cassano sarà ago della bilancia. Se il Cipriota dovesse giocare ancora ad esterno-destro, in prima linea potrebbe essere confermato Butaim o magari ritrovare una maglia Piontek. Senza dimenticare Bonazzoli, sicuramente il più tecnico degli attaccanti Granata, lo scorso anno segnò nel derby Napoli, regalando una piccola illusione alla squadra Granata. Chissà che l'area del derby non possa rigenerarlo. Con Mazzocchi a destra, Cassano potrebbe invece avanzare sulla giurazione ed in quel caso Dia sarebbe di fatto l'unica punta scelta da Sousa. Grazie. 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 Grazie.